Sindaco Cerini, i suoi concittadini del rione Buongesù che lamentano un po' la distanza da Palazzo Brambilla per il problema della viabilità delle code, lei cosa dice? Beh, allora intanto buongiorno a tutti i cittadini del Buongesù. Allora, io ho incontrato alcuni di loro sia in campagna elettorale che subito all'inizio del mandato. Effettivamente sono già passati un po' di mesi e quindi mia intenzione entro la fine di maggio, al più tardi, i primi giorni di giugno, venire nuovamente al Buongesù, chiamare un po' i residenti a raccolta e ragionare insieme a loro rispetto alle criticità e alle difficoltà che a tutt'oggi segnalano. Vorrei, e questo è insomma quello che mi riprometto di fare, vorrei capire insieme a loro quali sono le criticità e se c'è la possibilità da parte della mia amministrazione di dare delle risposte, rispetto proprio delle esigenze che credo riguardino la quotidianità. Per cui, laddove possibile, la disponibilità nostra la ribadisco e a brevissimo direi che ci sarà occasione per ragionare nuovamente.